Che vorresti l'uomo ideale? Disegnato. Un uomo disegnato. Ah, da te. Devo fare una stampata tradizio. Dimmi qual è quella cosa che devo assolutamente avere. A parte quella. Essere un uomo. Oh, deve essere un uomo, ragazzi. Un uomo che sia un uomo. Questo è quello che vuole. O stasera non è che l'imbarazzo d'ascita. Qua c'è un parco uomini che è una cosa incredibile. Va bene, guarda, io ti consegno questo messaggio. Spero che questo messaggio cambi la tua vita. Ok? Sei convinto? Prego. Numero 34, ragazzi. Chi è la 34? Oh, è questa signora qua. Non ti faccio, sto tranquilla. Allora, lo so. Ciao. Come ti chiami? Marretta, che bel nome. Ma dove vengo, Marretta? Da Mantua? Ma quanti punti hai avanzato per arrivare qua? Ragazzi, è venuta da Mantua, dalla Lombardia. C'è passata sotto le montagne. Sotto i punti, sopra i punti. Cioè, pensi di trovare un uomo, un uomo campano, benissante. Come lo vorresti, questo uomo? Non lo sa. Non lo sa. Non sa come vuole l'uomo. Tu lo sai? Vedi. Vedi, vedi. Non te lo vengo a chiedere ancora. Marretta, speriamo che tu trovi il uomo che è nel tuo spazio. Hai ridocchiato qualcosa? Ancora no. Adesso spagnate. Numero 15. Uno. Oh, ecco. Ciao. 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 Allora, lecce. Ciao.